Ciao, sono Alfio Bardolla, oggi vi racconto un po' di cose sull'immobiliare. Ci avete fatto un sacco di domande e quindi abbiamo creato una serie di pillole per rispondere ai vostri quesiti. Allora, uno dei problemi nel comprare l'immobile all'asta è che l'immobile spesso non è libero. E ci sono due tipi di non libero. Non libero fisicamente e non libero per la procedura. Sono due cose totalmente diverse. Non libero fisicamente vuol dire che c'è qualcuno che lo occupa. Tipicamente, se viene occupato dal proprietario, si intende libero per la procedura, cioè che la persona è dentro ma non ha nessun titolo per star dentro. Uno dei problemi più grossi è entrare nella disponibilità dell'immobile, perché solo alcuni tribunali fanno tutta la fase di sgombero prima dell'asta. Come di solito, il tribunale di Monza è uno dei tribunali più efficienti d'Italia. E quindi spesso loro lo fanno. Però in altri tribunali ti trovi a dover aver dentro delle persone. Quindi diciamo che ci sono una serie di principi. Il primo principio è se c'è un contratto d'affitto. Non succede quasi mai, ma se c'è un contratto d'affitto antecedente il pignoramento, la data di pignoramento lo trovate nella perizia, vale il contratto d'affitto. Se invece il contratto d'affitto è successivo al pignoramento, quel contratto d'affitto non vale niente. Il secondo aspetto, che invece è molto più dedicato, è l'occupazione per la casa coniugale. Cioè, se marito e moglie divorziano e quella viene assegnata come casa coniugale, sembrerebbe che ci sia un diritto per starci dentro nove anni. Quindi voi per nove anni, e non è che leggete, magari c'è una noticina assegnazione case coniugale, e voi non ci fate caso, nove anni questa signora ha il diritto di starci dentro a spese vostre. E quindi il mio consiglio è click. Non prendere solo immobili liberi. Un altro consiglio è, prima di andare all'asta, magari citofonate, magari parlate con l'esecutato e chiedetegli se è disponibile. La mia tecnica per liberare gli immobili è abbastanza semplice. Una volta che mi sono aggiudicato l'immobile, citofono, e se c'è dentro qualcuno cerco di fare un accordo perché vada via molto velocemente. Nel 50% dei casi le persone hanno già il cartone pronti e sono pronte a spostarsi. In altri casi invece bisogna aiutarli per muoversi fuori dalla casa, quindi aiutare a trovare una nuova casa o a avere la casa popolare, oppure magari dargli qualche incentivo economico per spostarsi. La mia tecnica è, più sono veloce a liberarlo, prima ristrutturo la casa, prima la vendo e prima il mio cash flow gira.